Gino Bartali è stato nominato cittadino onorario di Israele. Il celebre asso del ciclismo italiano è stato insignito dell'onorificenza postuma per il suo impegno durante la seconda guerra mondiale per mettere in salvo tanti ebrei condannati ai campi di sterminio. Allo Yad Vashem, il memoriale israeliano eretto per ricordare la Shoah, è stata organizzata una cerimonia in onore del ciclista toscano. A ricevere il titolo per il nonno era presente a Gerusalemme la nipote, Gioia Bartali. Gino Bartali è stato un grande campione dello sport ma oggi soprattutto è ricordato perché è un grande campione della vita e ci tengo che sia un esempio per tutti noi perché è stata una persona molto generosa e ha messo a rischio la propria vita per salvare non solo degli ebrei ma salvare delle vite umane. Bartali era stato dichiarato giusto tra le nazioni nel 2013 per aver salvato almeno 800 ebrei durante l'occupazione nazista in Italia. Lo fece trasportando nel tubo della sua bicicletta documenti falsi per farli espatriare. Poco prima della cerimonia i ciclisti della squadra israeliana hanno compiuto una pedalata nel giardino dei giusti del memoriale dove è inciso il nome di Bartali. Da Gerusalemme quest'anno partirà l'edizione numero 101 del Giro d'Italia.